Nome Anastasia Quella finita in galera per pratiche abortive Glielo ricordo io Anastasia aveva un cugino ruffiano Che combinava matrimonio e si chiamava Nestore Allora Don Prete, Nestore era anche mio cugino E questo significa che sono anch'io tua nipote E che mi devi aiutare, proteggere Perché sono solo deboli e difesa Un'altra parte di parentela Mia nipote una put... Ma che roba Ma cosa ti tosta? Scrivi una lettera di raccomandazione Ma tu guarda, proprio a me mi doveva capitare Un signo prete scomunicato